Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte di Anna Maria Taveglione, la donna di 55 anni, scomparsa venerdì scorso da Musellaro, frazione di Bolognano in provincia di Pescara e ritrovata senza vita dopo quattro giorni sul lungomare di Termoli. Le indagini coordinate dalla procura di Larino, diretta dal procuratore capo Antonio Larana e affidate al PM Ilaria Toncini, puntano a fare chiarezza sul caso dopo la denuncia presentata dalla famiglia, anche alla trasmissione chi l'ha visto e le ricerche che si sono estese in tutta la zona con l'aiuto di un elicottero. Sono stati proprio i familiari a confermare martedì sera l'identità della 55enne sposata con due figli, ritrovata lungo la spiaggia, vestita così come era stata segnalata il giorno della scomparsa, quando si è allontanata da casa alle quattro e mezza del mattino, un giubbotto dei pantaloni scuri e degli stivaletti col tacco. Per consentire gli accertamenti la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Santimoteo di Termoli. La polizia sta raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita di Anna Maria e risalire alle cause della morte anche al luogo da cui il suo corpo si è arrivato fino a Termoli, trascinato dalla corrente tra l'idola Lampara e la Stella Marina, se dal territorio di Pescara, da altra zona tra l'Abruzzo e il Molise, da una prima ricognizione cadaverica non risultano segni di violenza e tra le ipotesi si valuta un possibile incidente avvenuto in un punto ancora sconosciuto o un malore prima di finire in acqua per escludere anche un gesto volontario. Per questo gli agenti del commissariato di Termoli e della squadra mobile di Campobasso cercano possibili testimoni. Sono stati acquisiti i vari filmati delle telecamere, così come si cerca ancora la Renault Clio rossa targata CG417VD, a bordo della quale la donna si sarebbe allontanata. Forse, ma questo è ancora tutto da accertare anche dopo aver discusso in serata con il marito. Dall'autopsia arriveranno informazioni più chiare per dare una risposta alla morte di Anna Maria Tabellione, mentre la comunità della piccola frazione della Maiella Pescarese ha espresso vicinanza alla sua famiglia.